collegati con lo stadio Paolo Mazza di Ferrara per il posticipo dell'ottava giornata l'ultima partita che chiude il tabellone di questo ottavo turno veniamo ai nostri ragazzi invece che il mister schiera con il canonico 4-2-3-1 eccoli qua tanto inizia la partita in questo momento, forza ragazzi pronto ad andare a metterla verso il centro bello il dai e vai con Borca, il cross che dà il tiro, il salvataggio la rispetta, poi Icardi dentro l'aria, c'è un mischione, ancora Keita allarga ancora, contro cross, colpo di testa e gol, 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 il bomber dei bomber subito una bella azione con il cross e qua fa una girata e c'è la complicità della mano di Giroud che mette fuori causa come si dice il portiere Gomis vediamolo il colpo di testa, vedete che la palla gli picchia involontariamente sul braccio Lazzari fa un buon dribble in class al centro, il colpo di testa, la grande deviazione di Andanovic poi l'uscita imprecisa di Versalico, che sbaglia la giocata, pericolosa, questa girata di testa al minuto 16 e la respinta nell'angolo di Andanovic, attenzione, ancora loro che ci provano con quest'azione in mischia, calcio di rigore Attenucci contro Samiri, il tiro, fuori, 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 rimane fermo Schiattarella che è rientrato, recupera Cione, attaccato da Keita, che gli ruba palla, se ne va, è solo Palla dentro, l'errore, poi arriva in angolo, l'anticipato Un po' leggero nel tocco di esterno, parte la traiettoria, colpo di testa, salvataggio sulla linea Ed eccola qua, la girata di testa, di Vessino, di Vessino e Cione che anticipa Icardi La palla è ancora in possesso della spalla, con Valoti, carica un destro, ancora Samir Ancora in calcio d'angolo Escono e rientrano, palla dentro, la mancano tutti, mischione, palla dentro e poi sciupa all'occasione del gol Petagna Valoti, che si gira e allarga per Fares, pronto ad andare al cross, centro, aria, gol della spalla Paloschi Paloschi, sbuca tutto solo, vediamolo, il cross di Fares Classica palla, velenosa A testa di schiattare la palla che si impenna Timoroso Gomis, che prima fa finta di uccire, poi si ferma, recupera il ninja Che allarga per Perisic, l'altra in su di lui Perisic prova a girarsi, palla sul destro, reclama il pallone, Vessino Filtrante per Mauro, è solo, il tiro, è gol, 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 Prova ad andare l'uno contro uno con Giroud. Carica al sinistro, deviato la parata di Gomis. Recupera Gomis e dice che sono tre punti. L'Inter batte la Spall 2 a 1.